ragazzi voi non lo sapete ma io lo so ieri sera c'è stata una festicciola regge con fumi vari che gironzolavano per la redazione della gazzetta dello sport o interista dello sport infatti stamattina hanno visto roma per toma invece di mettere sempre il re lautaro in zaghi per i tre titoli di quest'anno supercoppa campionato e champions piuttosto che tutti i grandi titoloni che sempre ovunque comunque mettono per l'inter si vede che era roba buona perché per mettere in prima pagina un girù così con sempre con pioli così come ieri a rigosacchi sta dal lato di pioli e mi dà ragione a me alla faccia dei pioli out e degli youtuberini che si vogliono far visualizzazioni col mio nome ma attenzione perché soprattutto ce ne sono un paio che sono a rischio querela occhio perché è una cosa è parlare è una cosa è sparlare dunque questi odorini e fumi che ci sono nell'aria purtroppo fanno sì che la gente va in confusione come dice ma la gazzetta interista dello sport che mi mette un girù in prima pagina in questo modo e no torniamo con i piedi per terra subito tribù rossoniera tribù di gente vera buongiorno e buon 26 di gennaio a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista come viaggia l'inter nessuno in europa nelle trasferte vola come un zaghi ecco mancava no cioè perché io ho visto questo in grande poi dice io te la metto lì ogni tanto per deviare l'attenzione la gazzetta però qualcosa di buono dell'inter ci deve essere sempre e se no è il gazzetta interista dello sport qui ho detto ok 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 va bene tutto ok tutto ok bene ragazzi ragazzi buongiorno a tutte a tutti siamo arrivati finalmente a venerdì ciò vuol dire che domani gioca il nostro melano contro il bologna di tiago motta colui che è tra quei nomi papabili per il post pioli ma come sempre dico l'esonero sarà sempre per la prossima volta io sto sempre a favore di stefano pioli la cosa non cambia da sempre perché qui c'è coerenza non è che si fa come certi youtuberini come certi giornalisti o pseudo che un giorno sono da una parte un giorno sono dall'altra lì dove si muove il vento come le bandiere io invece sono un tronco la fermo e è sempre sostenuto stefano pioli è sempre sostenuto questo nuovo progetto fin dall'inizio quindi i progetti poi se non funzionano allora si dirà tac tac ma visto che sta andando nella giusta direzione e ovviamente come si dice roma non fu fatta in tre giorni un bambino non ci vogliono nove giorni ma ci vogliono nove mesi per nella gravidanza della donna per crescere per maturare per nascere ogni cosa c'è il suo tempo e anche nel calcio il progetto è la stessa cosa ci vuole del tempo questa nuova società sta facendo cose molto interessanti ma io stamattina non mi soffermo sui giornalacci perché tanto non c'è niente di interessante vi solo vi indico una cosa che ha in un trafiletto messo tutto juve sport di torino dove dice caos wefa boban in chioda ceferin vuole modificare lo statuto per i candidarsi inaccettabile se ne va e accusa andatevi a vedere il mio video che ho fatto ieri nell'altro canale la tribù nel pallone perché vado molto molto a bomba su sta cosa qua quindi mi raccomando se ancora non l'hai fatto vai nell'altro canale va e iscriviti ovviamente fai iscrivere condividi la stessa cosa dicasi con gli altri miei due canali delirium italicalcium e saggezza popolare ma oggi mi voglio soffermare su due aspetti girù arriviamo all'intervista che ha lasciato la gazzetta interista dello sport ma la cosa che già stavo preannunciando già da ieri sta facendo dei passi da gigante praticamente il milan crea la seconda squadra in serie c come funziona l'iscrizione e il ripescaggio manca ecco questo è un titolone che arriva di gabriella gaudiano da milan live che dice manca poco per la creazione della formazione under 23 del milan il progetto in piedi tutti i dettagli di seguito allora andiamo a vedere questi questi dettagli allora il milan è intenzionato a seguire quindi le orme di atalanta e di juventus che hanno due squadre appunto in serie c la juve under 23 l'atalanta under 23 che da tempo possono appunto contare quindi attingere da questa seconda squadra che porta anche un valore tecnico ed economico alla prima ogni anno giorgio furlani sta lavorando con concretezza quindi per quello che vi dicevo diamo tempo a questa società visto che c'è già il progetto stadio che è incamminato adesso anche quest'altro proprio per valutare sempre di più i giovani un settore giovanile che davvero ha fatto un esploat quest'anno abbiamo portato più di cinque primavera in prima squadra proprio nei momenti del bisogno e sempre hanno tenuto botta e si sono dimostrati all'altezza anche della situazione l'idea quindi dunque è quella di scrivere la formazione hunter 23 rossonera nel campo nel prossimo campionato di serie c il palcoscenico ovviamente il più adatto ai traorei bartesaghi simice in ziala sia camarda i gimenez e tutti quelli che ciacca traore e tutti quelli che abbiamo visto fino adesso in prima squadra così possono mettersi in mostra e soprattutto davanti una competizione che è molto piuttosto ovviamente del campionato primavera e dunque tale progetto è vivo anche in vista della potenziale riforma dei campionati che ci sarà dal prossimo anno che riguarderanno anche la serie c di cui già ne ho parlato anche nella qualche forse settimana scorsa nell'altro mio canale la tribù nel pallone se questa sarà approvata il milano non avrà più problemi a iscrivere in serie c la propria under 23 e dunque la seconda squadra rossonera potrebbe sostituire anche a milanello la primavera la primavera dirottata in nei campi vismara per una questione di spazio ovviamente e e quanto invece allo stadio in cui disputare le partite il milan sta valutando ovviamente per la seconda squadra lo stadio breda di sesto san giovanni san giuliano milanese o busto arsizio seconda squadra dunque come riporta sky sport del milan che ha chiesto già informazioni direttamente alla lega pro portando avanti proprio il proprio interesse proprio il proprio l'interesse per questa manifestazione solo però a giugno si conosceranno le squadre idonee non idonee per l'iscrizione al prossimo campionato dc le regole dicono che il ripescaggio toccherebbe proprio una seconda squadra di serie a in tal senso il milan è l'unica che ha fatto una proposta concreta attenzione però alle discriminanti ce ne sono tre nel caso due più club di serie a presentassero la domanda per l'iscrizione della propria squadra seconda squadra la posizione raggiunta nell'ultimo campionato il numero di spettatori allo stadio e infine il numero di giocatori the club convocati dall'under 15 all'under 21 al momento però l'unica squadra di serie a che ha chiesto informazioni alla lega pro in questo da questo punto di vista è il milan che è in attesa quindi è un'ottima notizia che io sto spingendo da tanto tempo perché secondo me è l'unico modo realmente per fargli fare quell'upgrade quel salto in alto anche in questi ragazzi che si possono confrontare con un campionato tostissimo perché il campionato di serie c vai a far legna ma veramente nei campi quelli tosti quindi avanti così altro grande punto a favore per il lavoro che sta facendo questa società dunque e non essere aziendalisti perché io non vedo né un becco di soldi dal milan né un becco di soldi da youtube visto che sono l'unico youtuber demonetizzato di tutta l'area calcistica e oltre in italia andate a vedere e vedete se non ho ragione perché perché è uno che dice le cose in faccia a differenza degli altri che invece sparlano da dietro anche da me quei youtuberini che vogliono quattro visualizzazioni ma poi li vedete sono dei mezzi morti in faccia e dunque vedete dei cadaveri io avrò pure la mia avrò pure la mia pancetta e sono fiero ma poco a poco la vado perdendo perché mi sto rimettendo in forma via vedete che questa primavera sarò bello liscio asciutto come l'olio l'olio asciutto no quindi vediamo come sarò asciutto e diciamo come i panni stesi con col caldo si asciugano ecco in quel senso dai allora girù girù dice stiamo con pioli perché pioli is on fire al milan sto bene per quanto riguarda il futuro vedremo più avanti a fine stagione dunque cosa dice olivier girù su stefano pioli quando era nella tempesta gli ho parlato dandogli sempre il mio sostegno e meno male che dicevano che lo spogliatoio era spaccato i soliti fanta youtuberini i pioli out i gazzettari i pseudo giornalisti bla 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 ve lo dico da tempo che dovete eliminare tutta la feccia del milanismo quelli che dicono pioli out e parlano mai in milan ragazzi non seguiteli più non seguiteli più perché tanto alla fine vedete che ho ragione io sempre cioè dicono solo stronzate la ragione va sempre da quelli per me è una medaglia il fatto di essere l'unico youtuber demonetizzato perché sono l'unico che dice la verità tutti gli altri andate li ascoltare andate li ascoltare ma è giusto che li ascoltate così vi rendete conto mettete su un piatto le due cose no allora dunque quando era nella tempesta gli ha parlato dandogli sempre il mio sostegno gli ho detto ci sono passato anch'io se è bisogno ci sono sempre quando ho segnato alla roma festeggiato anche per lui io il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa pioli is on fire e poi se è girato giro tutte e due insieme possiamo unire e fare una canzone con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l'argomento rinnovo vedremo più avanti ovviamente non so ancora che cosa succederà in futuro però so che qui io sto bene e il milan nel mio ha fatto grandi cose la nostra è una storia d'amore io qui sto bene appunto dice la cosa più importante rimanere concentrato sugli obiettivi di quest'anno della squadra non esclude la possibilità di trasferirsi negli stati uniti per chiudere la carriera dice ci sono anche altri paesi a fine stagione si apriranno più opportunità prenderò la mia decisione ovviamente tanto da calciatore che padre di famiglia ricordiamoci che c'ha quattro figli giro mica mica cazzi quindi deve decidere anche come muovere tutta la sua tribuna la tribù giro dunque non sarebbe affatto un problema dice confrontarsi con un eventuale giovane centravanti del milan per il futuro perché non ho paura della concorrenza per me è sempre stato uno stimolo per fare ancora di più ne ho bisogno poi se i 20 gol in a sono un obiettivo dice se potrò farli sì non mi metto nessuna barriera per i gol mi piacerebbe anche arrivare in doppia cifra con gli assist si può sempre migliorare una questione di volontà l'assist ha sempre fatto parte del mio calcio penso che il mio possa essere un buon esempio per i più giovani non si smette mai di crescere specialmente se sei dove vorresti essere io al milan sto bene ho ricevuto un'accoglienza da sogno con pioli e il suo staff c'è grande rapporto si è girato girù si è girato girù si è girato girù si è girato girù io dico sempre che in una squadra in una rosa ci vogliono sempre almeno due tre barra quattro senatori che sono vecchi che sanno cosa vuol dire la pressione e quindi da poter passare a dei giovani che già io farei una squadra divisa diciamo in tre parti la prima parte lo zoccolo se dico quella parola poi sembra come sto parlando di qualcun altro allora la la parte dura della squadra deve essere formata da dei senatori tre o quattro poi ci vogliono almeno sette otto barra nove giocatori che sono già dei giovani tra i ventiquattro e venticinque anni alla stile megnonte ornandez ben nasser i leao stessi che comunque sono parte già dell'ossatura della squadra hanno già diversi campionati hanno già esperienza internazionale su cui potersi affidare e poi un'altra parte di almeno 7 8 giocatori che sono sulla rampa di lancio e questi 7 8 che almeno tre o quattro arrivino dal settore giovanile questa è la mia idea ciò vuol dire fai 4 8 9 13 più 7 21 22 giocatori in tutto quindi anche dei portieri posso dire che il terzo può essere anche un mirante 40 anni uno che esperienza che ha dimostrato anche quando ha giocato contro la juve di essere pronto lui c'è e sul pezzo anche in Italia quando avevamo passato il turno col Cagliari giocatori che danno anche questo tipo di affidabilità un portiere megnano punto nient'altro secondo sportiero va bene quindi ci vuole esperienza gioventù che si possano mescolare bene e fare un buon mix perché squadre solo giovani poi nei momenti di pressione non hanno dove aggrapparsi si può essersi l'allenatore può esserci un Ibrahimovic della situazione però è importante che dentro lo spogliatoio ci siano i Girù ci siano i Chiair come era giusto che c'era il nostro Zlatan Ibrahimovic o c'è il nostro bello De Nonna Florenzi gente che sa cosa vuol dire anche il periodo di pressione duro il periodo negativo e come uscirci che diventano un faro proprio per tutto il resto per i giovani questa è la mia idea tu fammi sapere nei commenti in basso ovviamente che cosa ne pensi noi ci ritroviamo a un prossimo appuntamento già sapete che la tribuna il pallone è lunedì martedì mercoledì giovedì oggi non ci saranno contenuti fino a quando non arriverà anche quello alla monetizzazione allora poi comincerò magari a metterci anche un uno di venerdì vedremo con il tempo non assicuro niente questo fine settimana ovviamente giocano in an sabato domenica ci sarà saggezza popolare l'altro mio canale delirium italicalcium potrebbe esserci a spezzoni tra domenica e lunedì uscire due due parti diverse con i miei personaggi mentre la tribù rossonera noi ci rivediamo domani mattina ovviamente per il consueto appuntamento della mattina e poi ci sarà il post milan bologna ma non escludo che non so se tra oggi pomeriggio perché ho una giornata un po impegnata o domani farò una live come sto facendo tutte le settimane per analizzare insieme le parole proprio ascoltando le parole della conferenza stampa di mister pioli per poi lasciare una mezz'oretta finale con chat dinamica aperta però devo ancora decidere se lo potrò fare oggi pomeriggio o lo farò domani direttamente con il video della mattina invece di fare il video la mattina farei direttamente una live di un'oretta e mezza due ore dove appunto diventa più pieno quindi vediamo un po come va la giornata queste due giornate ok io ti auguro davvero un felice venerdì dai 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 che domani gioca il nostro milan carichiamoci a molla io ci credo e sempre forza milano ovunque comunque un bacio alle amiche e un forte abbraccio a tutti gli amici un bel a tutta la tribù a hug a hug a hug buon venerdì e ci vediamo alla prossima ciao